Quando avete scaricato la memory card della vostra fotocamera digitale e avete magari fatto tutti gli scatti in RAW e volete convertirli in jpeg in maniera molto molto veloce o magari semplicemente avete tante immagini in jpeg o comunque in alta definizione, in alta risoluzione scusate, che avete bisogno di convertire riducendone le dimensioni in modo assolutamente rapido ecco che ci viene subito in aiuto il nostro buon bridge. Tutto quello che bisogna fare è andare nella scheda nell'impostazione dell'area di lavoro nozioni di base, andare a cercare il pannello esporta e andare a selezionare la voce salva su disco rigido. Tutto quello che dobbiamo fare a questo punto è selezionare tutte le immagini che ci interessa convertire o trasformare, se sono sparse per la vostra area di lavoro non dovete fare altro che cliccare sulla prima e poi tenere premuto il tasto control o command se siete su mac andare a selezionare quelle che vi interessano oppure cliccare sulla prima e tenendo premuto il tasto shift andare a cliccare sull'ultima in modo tale che vengano selezionate tutte quante dopodiché le trascinate letteralmente sull'icona salva su disco rigido. A questo punto clicchiamo sulla frecciolina che ci consente di aprire la finestra delle opzioni di esportazione e selezioniamo la specifica cartella dove vogliamo andare a salvare sulla nostra macchina l'insieme dei nostri file, diamo un nome alla sottocartella dove vogliamo che siano salvati questi file per esempio ridimensionate e abbiamo ovviamente la possibilità di creare un nuovo nome file oppure di ignorare questo comando oppure addirittura di sovrascrivere il file esistente qualora salvassimo nella stessa identica posizione del file originale. Selezioniamo poi un dimensionamento manuale sulla seconda scheda fissando alla voce vincola per adattamento e scegliamo una dimensione massima di larghezza alla quale vogliamo che sia ridimensionata ogni singola immagine che andiamo a esportare. Ultima opzione che scegliamo di modificare è quella relativa alla qualità dell'immagine che coincide poi a livello di compressione in jpeg. Ancora una volta abbiamo a disposizione dei preset bassa, media, alta o massimizza in modo tale che il valore venga settato automaticamente come potete vedere. In questo caso scegliamo alta che ci garantisce un rapporto tra peso e qualità dell'immagine molto buono dopodiché non facciamo altro che cliccare su esporta e in pochi minuti a secondo della quantità di immagini pochi secondi se si tratta di poche decine di immagini mentre se scegliamo di esportarne diverse centinaia sarà necessario attendere comunque qualche minuto avremo comunque tutto il processo di conversione totalmente automatizzato da bridge.